Come di consueto, alla vigilia delle festività di Capodanno, le forze dell'ordine sortono alla cautela e alla prudenza. Nonostante questo e il divieto assoluto di utilizzare materiale esplosivo e armi, per Capodanno a San Leone un proiettile ha perforato la serranda di una casa penetrando all'interno dell'appartamento e conficcandosi in un muro. È stata questa la traiettoria di un proiettile vagante esploso da una pistola durante i festeggiamenti del 31 dicembre. L'episodio si è verificato nel lido balneare di San Leone. Uno dei proiettili esplosi è entrato dentro un appartamento nella zona di Viala dei Giardini, poco distante da un hotel. Per fortuna il folle gesto non ha avuto conseguenze perché all'interno di quella casa, in quel momento, non c'era nessuno. Sono stati gli abitanti della casa una volta rientrati a scoprire quanto accaduto. Sull'episodio intanto sta indagando la polizia per cercare di risalire all'arma dal quale è stato esploso il colpo accidentale che avrebbe potuto provocare una tragedia.